Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 30 ottobre, anzi no, 31 ottobre, fine mese, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Allora, il 31 ottobre, qual è la notizia che mi è più divertita di oggi? È sicuramente il ritratto fatto a Rula Jebreal, quella che perché ho fatto col ditino così mi ha detto tu sei un bianco sessista. Bene, ritratto fatto da Perna sulla verità a Rula Jebreal, il cui merito è quello di essere semplicemente una ragazza che dieci anni fa forse era piacente, oggi sembra una specie di sciura che gira per i salotti new yorkesi, si è sposata 4-5 volte, 3-4 volte, 2-3 volte, 1-2-3 volte, insomma con il gota dell'arte, dell'intellettualità, dal figlio di Goldman Sachs a Schnabel, insomma è una che li punta molto bene e li punta talmente bene che oggi Renzi ha pensato, ed è molto divertente il pezzo di Perna proprio per questo, ha detto ma chi è che possiamo candidare per riconnettere il paese reale, quello che vota il Movimento 5 Stelle, quello che vota la Lega, il paese reale alla sinistra? Ecco, l'ideona di Renzi di un po' di giorni fa all'Aeropoldo è stata, pensiamoci un po', pensiamo un po' chi può essere, chi è che può essere, no, che ha un po' il senso di quello che avviene in questo paese, eh, che conosce la gente, conosce, beh, sapete chi? Rula Jebreal, candidata del PD per le europee. Io dico, e poi uno si chiede perché il PD, no, apriamoci alla società civile, dice Veltroni, troviamo le persone migliori, Rula Jebreal, candidata del PD alle europee, bravi, bravi, fantastico, grandissima idea di Renzi, quella che urla, urlacchia a me, maschio, sessista, la trovate ovviamente anche sul mio sito nicolaporro.it, quella specie di suo incapricciamento, e questo forse vi dà l'idea di che cosa sia la sinistra, la sinistra Jebreal. Le cose serie riguardano l'economia, la crescita si è fermata, tutti i giornali ricordano come il PIL nel terzo trimestre del 2018 è pari a una crescita zero, il che vuol dire che quest'anno non cresceremo neanche dell'1%, se va bene 0,8, 0,9% tutto il 2018. Allora i giornali ovviamente tutti quanti sono pieni di commenti e di note indignate, questo è il paese che non cresce e anche se uno studente di economia del primo anno sa perfettamente che non è possibile che un governo che ha iniziato a lavorare male, dico io male, all'inizio di giugno possa aver compromesso la crescita di questo paese, ha fatto una minchiata pazzesca che è il decreto dignità, i cui effetti si spiegheranno da questo mese, da novembre. Ci possono essere quelli che gli economisti possono definire le aspettative razionali, cioè uno si aspetta che faranno talmente male e quindi produce di meno, in realtà queste ce l'hanno i mercati più che l'industria e l'Istat oggi ha misurato il totale fermo della industria delle auto e delle costruzioni che non dipendono ovviamente da questo governo, andrà peggio forse nel futuro, ma l'idea di associare a questo governo la stagnazione dell'economia, posto che si è dimezzata l'economia anche in Europa, è semplicemente la fragilità di questo paese che basta un soffio, basta che l'economia mondiale inizia a non crescere più che ne soffre. Detto questo, detto questo, è il modo, quello di questa manovra finanziaria per rimettere un po' di ossigeno in un'economia che non va da nessuna parte? Ovviamente no, questi cretini si sono inventati il decreto dignità che è una roba da matti, che ucciderà il lavoro in Italia, non solo quello a tempo determinato e una manovra finanziaria che invece di pensare allo sviluppo pensa al reddito di cittadinanza, sono pazzi. L'unica speranza è che la componente leghista se ne accorga in tempo e oggi sul fronte non c'è soltanto quello che scrive Sallusti, botte tra la lega e i grillini, sarebbe un'alleanza arrivata al capolinea, dice Sallusti, ma ci sarebbe anche tra i grillini una vera presa di posizione. Su tutti i giornali il comandante De Falco, che non si riesce a capire che merito abbia, se non quello di farsi una birretta la sera e aver detto a un delinquente di aver fatto quella frase dal suo posto di comando, salga a bordo cazzo. A parte questa eroica frase che ha detto De Falco, lui mi sembra un grande oppositore di questo Movimento 5 Stelle, diventato, eletto per il Movimento 5 Stelle, grande oppositore come lo è Lannutti, un altro che nella sua vita ha semplicemente, come possiamo detto, mestato, no, vabbè, lasciamo perdere perché quello è della querida facile. Questo è il concetto, cioè che i grillini dissidenti in tutti i giornali oggi hanno fatto interviste dicendo che sul decreto sicurezza loro non ci staranno. Fantastico, oggi Mattia Feltri, il suo Feltrino, perché il governo del cambiamento ha cambiato soltanto una cosa, cioè il Movimento 5 Stelle, che danno TAP, sono diventati TAP, vedrete danno TAP, diventeranno TAP, insomma è molto divertente il pezzo di Feltrino che dice l'unico cambiamento l'hanno fatto loro stessi. Molto bella la foto del Daily Mail oggi in prima pagina, secondo il Daily Mail, uno dei tesorieri del gruppo che fece il 9-11, l'attentato delle Torri Gemelle, beh, insomma starebbe con tutta tranquillità oggi in Marocco trattato dai suoi concittadini come un eroe. Ci sarebbe una foto di questo signore che dopo 15 anni, insomma, è a piede libero. Come a piede libero pare, secondo il giornale, sia Battisti, dopo la vittoria del presidente Bolsonero che ci aveva detto che l'avrebbe restituito all'Italia, Battisti si è dato, si è dileguato. Questa è l'ipotesi del giornale. Nel frattempo continua la farsa d'Italia, farsa perché i ferrovii dello Stato sono rimasti di sole a comprarle, voglio vedere come la gestiranno, e l'altra vicenda di giornata riguarda... Nicola non ho capito ancora da che parte stai, mi spiace, il cittadinanza lo possiede, vabbè. Ciao Nicola, ti seguo sempre, anche se sono di sinistra, per avere una visione delle notizie. Caro Riccardo, dimmi, tu che sei un uomo di sinistra, se per te Rula Jebreal è una delle tue rappresentanti, te la senti come tua rappresentante. Lo dico ovviamente con Riccardo che mi segue con grandissima simpatia. Per quanto riguarda i Tg Rai, oggi è la giornata giusta, pare, anche perché ho visto oggi sul Libero, sulla Verità, non mi ricordo, sul Libero, una foto di San Giuliano, il direttore di San Giuliano, il vice direttore di, o condirettore di Libero, che dice che il nostro vice direttore diventa direttore del Tg2, quindi penso che sia fatta. Hanno nominato Salvini e Di Maio, non prendiamoci per i fondelli, loro, tre direttori dei Tg, poi arriverà ai direttori di Rete, io se solo penso che vogliono cambiare Angelo Teodori, cioè quello che sta facendo benissimo a Rai 1, mi prende il sangue al cervello, proprio mi prende il sangue al cervello, ma comunque questa è la Rai, cambia sinistra, destra, alla fine quello che conta è che gente come io l'ho conosciuto bene, quel gruppo di lavoro lì, quella gente che non ha partiti, uomini Rai, capi struttura Rai, dalla Gabriella Uberti a Stefano Rizzelli, ad Alberto Puoti, ad Angelo, direttore di Rai 1, che si sono un po' sparpagliati, siccome non hanno partiti quelli ragazzi, ovviamente quando cambia, cambia per loro ed è una cosa allucinante ed è il motivo per il quale oggi invece di fare i commenti come fa Messina per la prima volta non c'è un nome dell'opposizione ai Tg2, ma lo stesso giornale che dice c'è una comunista a Rai 1, sono tutte cose vere, tutte cose sacrosantemente vere, ma oltre alla ai Tg2, che sono quello che interessa la politica, l'idea che anche i direttori di rete, che i Rai sono quelli che contano, vengano cambiati soltanto per queste specie di ubie, di queste, come possiamo dire, di questi umori interni alla politica è il motivo per il quale la Rai, secondo il mio modestissimo avviso, non ne azzecca una, anzi ne azzecca molte nonostante tutto quello che gli fanno. Direi il fatto sui Tg2 Rai, se la prende dice anche lei, anche il fatto che è una roba partitocratica ed è tutto evidente che il fatto non ce vole sta al fatto che la sua amichetta Sciarelli, Woodcock Sciarelli, non ce l'abbia fatta fare il direttore del Tg1. Sul San Giuliano c'è da dire una cosa, che è descritto dai giornali come se fosse Bolsonero, come se fosse, non so, una specie di fascista putiniano, non gli piace i giornali, a me lo rende quasi più simpatico questa figura di San Giuliano, è l'unico forse che potrebbe avere un po' più di equidistanza rispetto a un centrodestra che quindi mi sembra un pochino più rappresentato rispetto al PD, anche se, come dice il giornale, una di loro è un ex comunista, ma gli ex comunisti che diventano grillini, insomma, sono una razza molto complicata da comprendere. So che sono cose che interessano relativamente, però è un modus operandi di questo governo che purtroppo, come dice Feltrino, l'unico cambiamento che hanno fatto è che stanno cambiando loro. Ciao!